Alla scoperta di Borgofranco di Ivrea Sito in posizione strategica tra le Porediese e la bassa Valle d'Osta, Borgofranco possiede una buona scelta di attività recettive e legata al commercio. Sul suo territorio si trovano tutti i servizi fondamentali alla famiglia, l'asilo nido, la scuola materna, la primaria e la secondaria di primo grado. Il comune ha già dimostrato ampia sensibilità ai temi dell'accessibilità, dedicando un pannello specifico a una delle sue caratteristiche borgate, i Balmetti. La stazione ferroviaria di Borgofranco è l'unica in funzione tra Ivrea e Ponsaint-Martin. Borgofranco è attraversato dalla via Francigena, una via maestra che appartiene alla storia e che propone un itinerario possibile sia a piedi che in bici, offrendosi al turista con i suoi tesori, nello straordinario e unico complesso dei Balmetti, antiche e curiose cantine, addossate alla montagna. Al centro storico, con il ricetto, è l'antico Palazzo Marini, simbolo dell'arte dove a freschi di rara bellezza si raccontano. Da non perdere la chiesa parrocchiare, i maggiori di una serie di edifici sacri ancora splendidamente conservati. Una visita all'abitato non può prescindere da una sosta presso la Big Bench del punto panoramico.